Io non posso fare altro che ringraziarvi, sono felicissima di avervi tutti, ormai ci conosciamo da diversi anni, perché andate in giro abbiamo fatto diversi amici. Proseguiamo la giornata, speriamo bene, il tempo è stato clemente, all'inizio avevamo un po' di paura, abbiamo passato due settimane sul ballerino, ad un simbolo, comunque per fortuna il tempo è stato clemente con noi. Di nuovo vi saluto, proseguiamo e buon divertimento a tutti, un attimo vi passo Claudio. Ragazzi mi conoscete tutti, bene o male, e oggi è stata una piccola reazione sul programma del dobbiamo andare a mangiare per il pranzo, perché dal viaggio ci ospita per l'aperitivo, però dovevamo andare a mangiare a un lago loro privato, siccome non l'hanno fatto in tempo, sia per il tempo che per i loro impegni per la vita, non ce l'hanno potuto mettere in ordine per le nostre esigenze motociclistiche. E allora abbiamo cambiato, andando a Muzzarra di Tortoleto, di Sottomero, che penso che anche conoscete, staremo sicuramente meglio, andiamo tutti quanti insieme, cerchiamo di non perderci, perché faremo una strada all'interno per Cavatassi, ci troveremo sicuramente meglio, perché è molto appreggiata e tranquilla. Grazie a tutti. Grazie.